Oggi siamo qui per rigiocare tutta la carriera di Super Mario Balotelli ma con una testa diversa, con una mentalità diversa quella che non gli ha permesso di tirar fuori tutto il suo vero talento Ho creato Super Mario Balotelli ma non è un Balotelli qualunque è il Balotelli nel suo momento migliore Ho utilizzato questi attributi che vedete a schermo perché secondo FIFA Balotelli ha raggiunto il Prime su FIFA 13 anno in cui si trovava al Manchester City ha una valutazione base di 83 con un potenziale minimo di 90 Vi ho messo gli attributi qui a schermo se volete fare anche voi una challenge del genere potete copiare gli attributi e vi uscirà fuori il Balotelli di FIFA 23 Abbiamo 5 stagioni per completare tutti questi obiettivi che vedete a schermo ovvero raggiungere i 94 di valutazione vincere due Champions League ma con due squadre diverse la prima cercheremo di vincere con il Manchester City la seconda magari in Serie A deve infine vincere 3 scudetti, 2 scarpe d'oro, 1 pallone d'oro segnare in totale 150 gol e vincere 10 trofei tutto questo in 5 stagioni, questa è la missione di oggi prima di iniziare però io come sempre vi invito a lasciare un bel vi piace per supportare questi progettini e soprattutto fatemi sapere qui sotto nei commenti il prossimo giocatore da utilizzare in questa serie in cui andiamo a rigiocare le carriere di giocatori che ormai hanno raggiunto già una certa età detto questo non perdiamo tempo e iniziamo subito a lavorare su questo Manchester City allora in realtà il lavoro da fare è veramente poco infatti non voglio effettuare nessun colpo in entrata voglio utilizzare, voglio vincere con i giocatori che sono attualmente nel Manchester City dobbiamo però ovviamente giocare con Haaland e Balotelli quindi bisogna cambiare modulo e passare magari a un 4-4-2 proviamo lì davanti Haaland con Super Mario Balotelli eccolo qui con 83 di valutazione poi abbiamo De Bruyne a centrocampo con Rodri che potrebbe metterci tanto tempo per diventare un centrocampista centrale forse ci mette poco tempo per diventare un difensore centrale non lo so, dopo ci controlliamo abbiamo comunque anche Bernardo Silva che ha 28 anni quindi può reggere 5 stagioni a sinistra voglio puntare su Doku a destra ovviamente c'è Filippo Foden in difesa Guardiolino con Ruben Dias a destra c'è Walker ma possiamo puntare su Lewis giocatore straordinario con un super potenziale e ovviamente essendo un terzino può utilizzare il baghettino del cambio ruolo con a sinistra Comez oppure Cancelo che potrebbe rientrare dal prestito e può giocare in questa posizione vediamo bisogna però risolvere il problema Rodri perché purtroppo in questo modo non abbiamo il CDC ci mette 156 settimane per diventare un difensore centrale ci mette 15 settimane per diventare un centrocampista centrale quindi sì ragazzi sì con i preparatori poi il tempo si dimezza quindi il 7 massimo 8 settimane riuscirà a cambiare posizione possiamo giocare quindi in questo modo ovviamente ovviamente uno dei tre deve andare fuori c'è Bernardo Silva che è un 88 De Bruyne che è un 91 e ha 32 anni volendo ragazzi volendo possiamo anche sacrificare De Bruyne so che è uno spreco so che è un peccato però se non possiamo fare calcio mercato per 5 stagioni è vero che poi cambieremo squadra nel corso dei 5 anni ma ci conviene forse puntare su Rodri che ha 27 anni e Bernardo Silva 28 così almeno 3-4 stagioni siamo sicuri che riescono a farle ecco per quanto riguarda invece Cancelo a 29 anni anche lui signori può tranquillamente giocare per 3-4 stagioni sono un po' titubante per quanto riguarda il terzino sinistro perché c'è anche Cabo Re che non è male che potrebbe poi giocare a sinistra ma sono titubante soprattutto perché c'è Sergio Gomez che è un terzino che è molto interessante 22 anni 74 anche lui potrebbe volare con il banchettino del cambio ruolo e allora facciamo così puntiamo su Gomez che è un giocatore abbastanza particolare e non su Cancelo che ormai già conosciamo a memoria sistemo la squadra faccio i rinnovi faccio gli obiettivi e gli faccio vedere poi la squadra prima della prima simulata ed eccoci qua ci siamo il Manchester City è pronto per la prima simulata Balotelli ha già fatto l'upgrade di uno e manca solo il cambio ruolo di Rodri altri 7 giorni e diventa ufficialmente un centrocampista centrale invece Doku deve fare la D noi avevamo poi cambiato la posizione del modulo tra l'altro cosa molto importante Balotelli ha già la possibilità di portare a casa due titoli perché abbiamo la finale di Community Shield contro l'Arsenal e la finale di Supercoppa Europea contro il Siviglia e allora inauguriamo questa nuova squadra andando subito a sfidare l'Arsenal di Gabriel Jesus di Odegaard di Arteta vediamo come funziona la coppia Haaland Super Mario Balotelli andiamo direttamente al risultato 2 a 1 con gol di Foden e gol di Haaland per adesso Balotelli non pervenuto sarà molto difficile per Super Mario in caso di vittoria della Champions League di portare a casa il pallone d'oro perché ha come compagno di squadra Haaland che quasi sicuramente farà più gol di lui comunque la prima coppa è andata adesso tocca al Siviglia la squadra è confermata andiamo quindi subito dentro per la finale di Supercoppa Europea vediamo se Super Mario segna nooo 3 a 1 la mela la mela e Pedrosa sconfitti in finale gol di Haaland Balotelli ancora una volta non pervenuto la grafichina relativa ai titoli la aggiorneremo poi direttamente al termine della stagione questa qui è la squadretta e direi che possiamo schippare fino al primo gennaio così facciamo un breve recap del campionato e della Champions League siamo arrivati esattamente a metà stagione con la barretta su eccellenti addirittura e occhio perché abbiamo raggiunto anche la semifinale di Carabao Cup quindi la possibilità di portare a casa un altro titolo importante andiamo però a vedere come siamo messi in campionato perché dopo circa 18 partite anzi dopo 20 partite siamo in testa con 3 punti sul Manchester United secondo in Champions League invece passiamo il turno ma come secondi mamma mia vince il girone Lipsia facendo 16 punti GG per l'oro agli ottavi becchiamo il Parcellona con l'Elipsia che becca il Real Madrid bene bene c'è andata bene ok la squadretta è questa con Balotelli che è già diventato un 87 sta letteralmente volando il capo cannoniere però è Alan e come da pronostico signori se la stagione dovesse finire così il pallone d'oro andrà giustamente ad Alan Super Mario però è cresciuto di 4 sono molto contento della sua crescita uno step importante sarà quello di diventare più forte di Alan sarà tosta perché anche lui è giovane e anche lui cresce però questo è uno degli obiettivi che ci possiamo porre gli sistemo il piano di crescita in 15 settimane fa un altro upgrade diventando un 88 molto bene a questo punto direi che possiamo continuare con la simulata ci vediamo direttamente il 31 maggio 2024 questa volta però le partite più importanti le commentiamo insieme vinciamo addirittura 7 a 0 con il Nottingham Forest ragazzi mamma mia ovviamente il risultato della doppia sfida di Carabao questo ci fa capire che siamo ovviamente in finale adesso c'è il Barcellona signori in casa la partita finisce 0 a 0 e questo 0 a 0 non mi piace tra l'altro c'è la finale anche di Carabao Cup contro una squadra che non riconosco dallo stemma 2 a 1 quindi vinciamo la Carabao Cup perdiamo però l'FK 4 a 2 attenzione perché se andiamo fuori anche col Barça 2 a 1 incredibile occhio alla barretta signori che potrebbe scendere e infatti scende di colpo scende di colpo la barretta purtroppo abbiamo fatto male ma molto male ragazzi ma molto male fuori agli ottavi di Champions e fuori anche in FK nelle prime partite vediamo se riusciamo in extremis a salvare la faccia siamo quasi arrivati al termine della stagione cerchiamo di resistere magari mi fermo un secondo per svincolare qualche giocatore che ha chiesto la cessione sicuro sono in tantissimi sì 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 li svincolo tutti questi perché è l'unico modo per salvare la faccia la barretta è comunque molto 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 bassa siamo al pelo siamo veramente al pelo campionato stiamo comunque facendo molto 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 bene quindi penso che non dovrebbero esserci problemi per quanto riguarda l'obiettivo della della Premier League la barretta ritorna sul rosso questa cosa mi preoccupa veramente tanto chiudiamo comunque con il West Ham pareggiando uno a uno la stagione finisce qui rischiamo rischiamo di essere esonerati vinciamo il campionato con 88 punti è incredibile che non siamo neanche riusciti a superare gli ottavi di FA Cup pazzesco la valutazione è 44 però mi devono ancora dare l'obiettivo di terminare la stagione con un margine di guadagno di 325 milioni dai comunque la classifica è questa abbiamo vinto il campionato con 88 punti la formazione invece è questa qui con Balotelli che raggiunge i 90 mamma mia crescendo addirittura di 7 poi per il resto la squadra si sta comportando molto bene con Lewis che è un 85 Gomez che da 74 se non erro è diventato un 82 Guardiolin è cresciuto Rubendias idem cioè la squadra è veramente forte andiamo a vedere le statistiche di questa prima stagione perché il capo cannoniere incredibilmente non è Haaland non è Haaland il capo cannoniere ma è Foden che fa 30 gol Haaland ne fa 29 Balotelli ne fa 22 crescendo di 7 11 11 per un ottimo Berrano Silva e 12 assist per Rodri aggiornamento grafico relativo agli obiettivi perché siamo riusciti a vincere 3 trofei la coppa all'inizio la supercoppa la community shield con l'arsenal la Carabao Cup e il campionato 90 per quanto riguarda la valutazione con l'obiettivo dei 94 22 gol su 150 uno scudetto su 3 per il resto è ancora è ancora presto seconda stagione appena iniziata ci siamo salvati per miracolo non siamo stati esonerati e quindi il nostro percorso con il city continua abbiamo la finale di community shield con il derby county che ha incredibilmente forzato a casa l'anno scorso l'FA Cup GG per loro abbiamo quindi la possibilità di vincere un altro tofeo con questa squadra qui Balotelli 90 Alando 94 ho fatto anche tutti quanti i rinnovi tutti i piani di crescita ho fatto gli obiettivi possibili ho fatto tutto e allora siamo pronti per la prima finale di questa seconda stagione l'obiettivo ovviamente è vincere sulla carta non c'è no vabbè ragazzi c'è un problema c'è un problema in questo Manchester City scusatemi cioè Balotelli cosa stai combinando porca misera Balotelli stai destabilizzando lo spogliatoio del Manchester City e non è possibile raga posso capire magari un piccolo crollo nel corso della prima annata perché comunque ci siamo indeboliti tra virgolette puntando su terzini non fortissimi ma adesso i terzini sono cresciuti la squadra è veramente forte ci sono 4-5 giocatori sopra il 90 e si perde con il derby count cioè è una cosa che io non posso accettare porca di quella miseria comunque simuliamo anche la seconda stagione ci vediamo direttamente a gennaio per fare il recapino della Champions e del campionato primo gennaio 2025 con la barretta incredibilmente sull'eccellente mamma mia la classifica è questa addirittura primi con 9 punti di distacco sull'Aston Villa in campionato facciamo bene sono nelle altre competizioni che c'è sono le altre competizioni il problema ancora secondi nel girone ragazzi ma perché non riusciamo a fare bene in Champions 16 punti per la Juventus agli ottavi becchiamo il Real Madrid con la Juventus che becchia l'Ipsia e ci sta sono passati per primi ma adesso qui rischiamo di andare fuori di nuovo perché il Real Madrid è porca vacca il Real Madrid è il Real Madrid Valotelli è un 93 sta crescendo alla velocità della luce così come tutti quanti i nostri giocatori e anche il capocannoniere ragazzi e anche il capocannoniere quindi attenzione perché se vinciamo la Champions il pelone d'oro andrà al giocatore che ha contribuito di più quindi se la stagione finisse qui Valotelli è il giocatore che ha contribuito di più sarà tosta però sarà molto tosta battere il Real Madrid simuliamoci vediamo direttamente al termine della stagione ma questa volta le partite più importanti le commentiamo insieme partita contro il Real Madrid la prima si gioca in casa e finisce 2 a 2 quindi si deciderà tutto in trasferta è tosta è molto tosta battiamo il Liverpool in Coppa il totale è 4 a 3 il totale è 4 a 3 e quindi passiamo gli ottavi di Champions e andiamo ai quarti dove invecchiamo il Bayern Monaco partita in trasferta 3 a 1 daglie daglie si è svegliato Balotelli signori si è svegliato Balotelli il totale con il Bayern Monaco è 4 a 3 siamo anche in semifinale di FA Cup vinciamo 3 a 0 invecchiamo il Liverpool mamma mia che percorso complicatissimo finisce 2 a 0 però per noi in trasferta e il totale è 3 a 2 quindi siamo in finale di Champions League bene siamo anche in finale di Coppa ragazzi siamo anche in finale di Coppa mi fermo un secondo la finale contro la Juventus allora schippiamo fino al 7 così guardiamo la finale di Coppa vinta 2 a 1 bene andiamo a vedere la formazione perché Foden si fa buttare fuori e Balotelli raggiunge l'overall di Haaland 95-95 dovranno avere comunque un sostituto abbastanza affidabile da che prenderà il posto di Foden Balotelli è il miglior marcatore e ne fa 37 37 di cui 31 in Premier League occhio perché con 31 in Premier League si vince la scarpa d'oro dopo controlliamo però in caso di vittoria della Champions League il pallone d'oro andrà a Super Mario Balotelli secondo posto per Haaland con 29 Foden ne fa 19 Berando Silva 8 con 17 assist bravo andiamo a sistemare la formazione perché a sinistra non c'è nessuno c'è Nunes Nunes può fare l'esterno volendo sì dai anche se il punto esclamativo può comunque giocare lì e Foden ovviamente andrà in tribuna peccato perché un 94 un 94 nella simulata fa la differenza però siamo una squadra straordinaria anche senza un 94 siamo comunque molto più forti della Juventus a livello di carta tra l'altro la gara si gioca a San Siro e quindi in casa tra virgolette della Juventus in Italia questa è la Juventus con Blaovic con chiesa a sinistra con Rabiot Danilo Bremer Gatti ancora Locatelli è una formazione sì molto simile alla Juventus che conosciamo già e soprattutto a livello di carta come ho detto prima non c'è partita la sto gufando forse sì forse troppo andiamo dentro la finale finisce lo sapevo porca di quella miseria lo sapevo con di Locatelli dai come si fa ragazzi a subire cosa Locatelli porchi infine di Champions doppietta comunque di Bernardo Silva Locatelli Gimenez doppietta di Gimenez sconfitta clamorosamente in finale di Champions League dopo un cammino veramente anche molto importante perché comunque abbiamo fatto fuori il Liverpool il Bayern Monaco il Real Madrid e poi siamo caduti sul più bello per quanto riguarda invece la classifica vinciamo con 90 punti la Community Shield l'abbiamo persa l'abbiamo già vista prima in diretta l'FC Cup l'abbiamo vinta 2-1 con il Tottenham anche questo risultato visto in diretta la Caravao Cup non pervenuti quindi abbiamo vinto un campionato e una Coppa quindi sono due i titoli portati a casa più la Scarpa d'Oro per Super Mario Balotelli guardiamo per sicurezza sì assolutamente sì secondo posto sarà lontanissimo con 19 gol aggiornamento grafico ho modificato l'obiettivo relativo all'overall perché Balotelli sta crescendo in una maniera disumana quindi da 95 ho fissato l'obiettivo al 98 e secondo me dovremmo farcela senza nessun problema 5 titoli in totali 2 scudetti una Scarpa d'Oro 59 gol su 150 ancora niente per quanto riguarda la Champions League terza stagione appena iniziata questa signori è la squadretta 95-95 per Balotelli e Dalland attenzione però al pallone d'oro perché è vero che non abbiamo vinto la Champions ma abbiamo vinto il campionato e soprattutto Balotelli ha vinto la Scarpa d'Oro e sappiamo che su questo gioco la Scarpa d'Oro è molto importante vediamo un'occhiata per sicurezza prima del pallone d'oro però abbiamo un'altra finale signori la terza finale di Community Shield di questo progettino questa volta contro la Stone Villa la squadra è confermata e allora possiamo andare direttamente al risultato stiamo fallendo un po' troppo ai finali per i gusti andiamo al risultato con Fodek che è tornato finisce 3-2 con Balotelli che sbaglia il rigore Bernardo Silva che si fa buttare fuori poi Super Mario segna il 78 e regala la Community Shield al Manchester City segna Rodrigo poi che sarebbe Rodri e segna Bernardo Silva il 19esimo fa tutto Bernardo Silva praticamente gol espulsione fa tutto lui fa tutto lui 3-2 comunque con gol decisivo di Balotelli ho rinnovato tutti i contratti ho fatto tutti gli obiettivi possiamo simulare fino al 27 ottobre 2025 giorno in cui possiamo vedere i candidati per il pallone d'oro siamo arrivati al giorno X andiamo subito a vedere i candidati perché abbiamo tre giocatori del intanto quello è Balotelli ma non è lui non è quello Balotelli perché è così che poi tra l'altro vi ricordate che vi avevo detto che su questo gioco c'era un bug incredibile ovvero che se tu crei un giocatore poi al termine di ogni stagione sparisce quindi devi svincolarlo ricaricare ecco ecco non so per quale arcano motivo ma questa volta il bug sembrerebbe non essere quindi forse i piscarini dell'EA hanno risolto questo problema vabbè comunque Balotelli quello è Balotelli Haaland e Foden con Vinicius nel Real Madrid la finale l'ha vinta la Juventus e non c'è nessuno della Juve quindi occhio perché secondo me il pallone d'oro potrebbe andare a un nostro giocatore bisogna vedere chi però lo vincerà tra Haaland Foden e Balotelli mi fa strano chiamarlo Balotelli 96 96 94 eh anche Haaland non molla a livello di overhaul cavolo il pallone d'oro verrà segnato il 3 il 3 novembre il primo lunedì del mese di novembre questo è il giorno X per chi me lo chiede magari nei commenti per chi se lo stesse chiedendo avanziamo quindi fino a domenica poi skipiamo dal calendario e ovviamente c'è l'animazione bisogna però capire chi è il vincitore lo vediamo subito non dal nome ma quello che viene inquadrato è lui è lui è lui signori è lui è il fake è il fake di Super Mario Balotelli dai almeno il nome è scritto giusto da questi pischialini dell'EA signori non lo so vi posso anche aspettare il bigliettino con su scritto tipo Filippo Balotellovic qualcosa del genere eccolo lì signori Filippo Balotellovic vince il pallone d'oro nonostante ovviamente la non vittoria della Champions League molto bene a questo punto direi che possiamo continuare con il nostro percorso però abbiamo l'obiettivo di vincere la Champions League con due squadre differenti quindi speriamo di vincere la Champions League in questa stagione così poi abbiamo due anni per vincere la Champions in un'altra squadra mi piacerebbe andare all'Inter oppure al Milan entrambe squadre in cui Balotelli ha effettivamente giocato agli ottavi di Champions becchiamo il Villareale e dando Balotelli il fake di Balotelli è un passo dalla storia addirittura sarà segnando una caterva di gol probabilmente la barretta però è arancione dopo la partita contro il Liverpool mi devo assolutamente fermare perché secondo me stiamo con il Villareal 5 a 3 mi sto un attimo impappinando attenzione fermi tutti fermi tutti che sta accadendo qua chi è quello che ci sta facendo esonerare eccolo Wilson Sbrand via fuori barretta che è praticamente quasi sul verde ok cioè è assurdo che su questo gioco conta più il morale del quarto panchinaro cioè neanche il primo panchinaro del quarto panchinaro piuttosto che la vittoria di una Champions League cioè è boh assurdo ai quarti di Champions becchiamo comunque il Barcellona in casa finisce 1 a 1 se non erro come nel corso della prima stagione il totale è 3 a 2 quindi passiamo il turno siamo in semifinale di Champions League attenzione perché perdiamo la coppa contro il Crystal Palace e questo potrebbe essere solo un problema con il PSG vinciamo 2 a 1 la partita di andata il totale è 4 a 2 quindi siamo di nuovo in finale di Champions League per cambiare squadra però la barretta deve essere verde invece purtroppo la barretta è arancione mi fermo un secondo la finale di Champions è contro il Borussia Forkmund quindi simuliamo fino al 6 e poi cerchiamo in qualche modo di portare la barretta sull'arancione sul verde scusatemi perché altrimenti non possiamo cambiare squadra purtroppo più di così la barretta non sale ho rinnovato tutti i contratti ho svincolato i giocatori tristi ho fatto ogni cosa gli obiettivi sono stati completati la barretta però è così è arancione forse è colpa dell'EFA Cup che abbiamo perso? non lo so in campionato andiamo così giusto a vedere per curiosità perché non l'abbiamo ancora visto primi con 87 punti sì in campionato stiamo facendo molto bene 3 campionati vinti su 3 andiamo comunque a giocare alla finale di Champions League contro il Borussia Forkmund DDA anche Cucureia c'è Emre Chan come l'importa e non sarà facile non sarà facile se sono arrivati fin qui ci sarà un motivo andiamo direttamente al risultato anche senza giocatori finisce 2-1 segna Doku e segna Super Mario Balotelli al 29esimo la prima finale contro la Juventus la perdiamo la seconda la vinciamo quindi recapino generale perché abbiamo vinto il campionato abbiamo vinto la Community Shield siamo a 2 l'EFA Cup niente la Carabao Cup niente e quindi abbiamo vinto anche la Champions sono 3 3 titoli ragazzi 3 titoli potete a casa saliamo quindi a quota 8 con Super Mario Balotelli che realizza 38 gol ancora una volta il miglior marcatore della formazione segna anche 27 gol in Premier League Alan ne fa 20 in Premier Foden 10 in Premier League occhio perché il numero di gol è abbastanza buono per la Scarpa d'Oro infatti è così più 2 su Son che ne fa 25 e quindi Balotelli si porta a casa pallone d'oro scarpa d'oro Champions League e campionato più Community Shield mamma mia ragazzi stagione incredibile per Super Mario Balotelli che raggiunge anche i 97 di valutazione aggiornamento grafico perché sono 3 gli obiettivi completati pallone d'oro scarpa d'oro e 3 scudetti vinti su 3 una Champions League su 2 97 su 99 ho aumentato anche il numero ho aumentato di nuovo il numero dell'overall da raggiungere 8 titoli su 10 97 gol su 150 adesso avanziamo alla quarta stagione completiamo gli obiettivi così la barretta torna sul verde e poi durante la stagione cambiamo squadra e cerchiamo di andare o al Milan o all'Inter questo è il piano quarta stagione appena iniziata ma prima di salutare il Manchester City abbiamo due partite quella contro l'Arsenal finale di Community Shield e poi la Supercoppa contro l'Inter proprio l'Inter che potrebbe essere la nostra nuova squadra e allora prima di salutare il Manchester City cerchiamo di portare a casa gli ultimi due trofei che ci permetterebbero anche di completare l'obiettivo la prima finale contro l'Arsenal si giocherà a Wembley andiamo direttamente al risultato vinciamo 1-0 con gol di Foden e quindi saliamo a quota 9 non ci resta a questo punto che avanzare leggermente nel calendario per quanto riguarda le email ovviamente non ce ne frega assolutamente niente non mi interrompete non mi interrompete con queste email inutili finale contro l'Inter signori la finale di Supercoppa contro l'Inter di Arias e Lautaro Martinez e beh sarebbe bello fare Balotelli Lautaro bisogna vedere chi è quella Arias forse una rigenerazione di qualcuno anzi sicuramente sarà una rigenerazione quindi forse ha il potenziale per diventare speciale poi ci pensiamo o Inter o Milan non so dove andare boh andiamo direttamente comunque al risultato la finale venisce 4-2 ai tempi supplementari tripletta di Haaland Balotelli sbaglia il rigore mamma mia Super Mario no gol di Foden comunque sono tantissimi gol realizzati 4-2 una finale stupenda che alla fine vince il City di Super Mario ed eccola signori ed eccola l'Inter ho aperto le richieste e l'Inter praticamente mi è sbucata davanti è la prima squadra che mi è uscita se switch abbiamo il Tottenham la Juventus la Roma e il Milan c'è anche il Milan in questo momento però il Milan si trova al sesto posto con Vittor Osimèn ragazzi Vittor Osimèn al Milan un attacco con le Aosimèn va bene anche una bella squadra è Saliba Sklotteberg Ciguel Teo Hernandez vabbè lo conosciamo Ben Asser una squadra veramente importante però si trova al sesto posto invece l'Inter si trova al primo posto con 5 vittorie 3 pareggi con l'Autor Martínez e il Nesiri Miretti che è cresciuto un botto Bastoni Restes grandissimo talento giocatore che cresce tantissimo e poi c'è anche la Juventus eh signori con Vlaovic Bonifaz Palacios Locatelli allora io escludo la Juventus cerchiamo di seguire comunque il percorso di Super Mario o andiamo all'Inter o andiamo al Milan eh vedendo le squadre sinceramente mi stuzzica di più il Milan sono sincero ragazzi mi stuzzica di più il Milan perché ha comunque Osinen Leao possiamo fare un attacca 2 Osinen e Valodelli con Leao a sinistra poi a destra ci mettiamo Pulisic oppure ne compriamo un altro Saliba è un ottimo difensore centrale Sklotteberg idem Ciguel idem Magnan cresce vabbè comunque Magnan è un super portiere Tevernandez cioè vedendo le squadre così il Milan mi sembra più avanti però il Milan è in Champions perché noi dobbiamo vincere la Champions contorniamo classifica andiamo subito a vedere la Champions League perché il Milan c'è in Champions però sono terzi nel girone 3 3 3 3 3 l'Inter è prima del girone porca miseria allora fate conto che comunque noi andiamo subito al Milan di conseguenza ci sono buone possibilità di passarlo questo girone andiamo al Milan dai ragazzi andiamo al Milan andiamo al Milan non voglio andare all'Inter non mi dispiace per i tifosi dell'Inter che staranno piangendo in questo momento però preferisco il Milan preferisco il Milan per fare la coppia per fare quel tridente Balotelli Leao Zimèn mi stuzzica tanto ci sarebbe anche la Roma eh con Joe Felix madonna mia ragazzi ma che è c'è anche il Napoli ragazzi il Napoli con Bejeder che va a Scheria e basta allora ho scelto il Milan comunque e quindi vada per il Milan e cosa molto importante però Balotelli ha segnato solo 4 gol madonna mia anche lui forse vuole cambiare aria ricordiamoci di questi 4 gol perché Balotelli li ha comunque realizzati e quindi bisogna aggiungerli alla fine della stagione perché poi quando c'è in uno squadro non possiamo più rivedere quanti gol ha fatto Balotelli al City quindi vediamolo adesso e ricordiamoci di questi 4 gol extra che verranno aggiungi il Milan attento sì 24 ottobre 2026 firmiamo con il Milan e ovviamente Balotelli verrà con noi siamo arrivati al Milan e vi devo far vedere una cosa perché ci è mancato poco eh ci è mancato pochissimo praticamente per fare il contratto di Balotelli che guadagnava tantissimo la società si è un po' lamentata cioè abbiamo rischiato l'esonero per fare il rinnovo la barretta è leggermente calata era praticamente quasi sull'eccellente adesso è sull'arancione quasi però va bene così l'importante è essere riusciti a portare a casa Super Mario Balotelli che nel frattempo è diventato un 99 quindi è riuscito a fare l'upgrade c'era scritto 170 settimane invece praticamente ci ha messo due mesi però vabbè è meglio così come giochiamo allora? allora cambiamo modulo direi che possiamo passare però c'è Ben Nasser che è un cdc potrebbe fare il difensore centrale però effettivamente siamo messi molto bene anche in difesa c'è Gabi ragazzi madonna che squadra è? che squadra è? bisogna allora bisogna trasformare Ben Nasser in un centrocampista centrale per forza ragazzi per forza c'è anche Arauco che è forte ragazzi Arauco ma gli anni importa in difesa va bene ci siamo messi benissimo c'è questa è una squadra straordinaria Pulisic è il più forte ma mi sta bene così c'è anche De Ketelar che è un 84 bisogna vedere De Ketelar quanto tempo ci mette per diventare una D perché ha un potenziale più alto di Pulisic comunque si cambia modulo si passa al 4-4-2 a centrocampo ovviamente c'è Gavin copia con Ben Nasser che deve diventare assolutamente un centrocampista centrale a sinistra abbiamo Leao a destra per adesso ci metto Pulisic in attesa di De Ketelar lì davanti Balotelli Osimen difesa con Arauco Sklotenberg Saliba Tevernande si importa Magnan mamma mia ragazzi che squadra incredibile a momento è più forte questo Milan che il nostro Manchester City di prima mamma mia abbiamo fatto bene a venire qua eh porca miseria e poi Balotelli 99 la ciliegina sulla torta voglio vedere però De Ketelar quanto tempo ci mette per fare la D perché secondo me ha nelle carte la D cioè può farlo secondo me ci mette 174 settimane no purtroppo non può farlo ok per quanto riguarda invece Ben Nasser lui ci mette poco tempo per diventare un centrocampista central all'inizio della stagione all'inizio della carriera adesso ci mette 45 settimane con i bonus di crescita però se arriviamo a un bonus del 100% si dimezza il tempo e quindi in circa 20 settimane cambia la posizione diventando effettivamente un centrocampista centrale va bene va benissimo lo aspettiamo ho sistemato tutti quanti i piani di crescita e direi che ci siamo signori siamo pronti per effettuale quindi la prima simulata con il Milan abbiamo anche la Supercoppa verifichiamo a gennaio se c'è qualcosa si e allora skipiamo fino al 2 gennaio 2027 perché ci possiamo portare a casa un titolo importante tra l'altro occhio alla Champions League perché siamo terzi anzi eravamo terzi nel girone però battiamo 2 a 1 in Lipsia in trasferta e quindi questo è sicuramente un ottimo risultato tra l'altro in campionato eravamo sesti quindi attenzione perché dobbiamo assolutamente confermare il piazzamento Champions altrimenti questa diventa la nostra unica possibilità di portare a casa la seconda Champions siamo arrivati comunque alla partita contro la Roma la semifinale si giocherà contro la Roma in casa no perché è campo neutro e perdiamo 2 a 1 quindi subito fuori dalla Supercoppa italiana in Champions League siamo agli ottavi però becchiamo purtroppo il PSG in campionato siamo settimi con 32 punti una partita in meno se vinciamo andiamo a quota 35 e scavalchiamo tutte le squadre sopra di noi come ho detto prima però bisogna stare molto 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 attenti al campionato perché bisogna centrare la top 4 per quanto riguarda invece Ben Nasser 12 settimane e cambierà posizione diventerà ufficialmente un centrocampista centrale non ci resta l'ora che continuare con il nostro percorso schippiamo tutto fino al 31 e vediamo con il PSG che cosa riusciamo a fare siamo stati sfortunati a beccare subito il PSG però se vogliamo vincere la Champions prima o poi queste squadre vanno battute ecco la prima partita si giocherà in casa questo ci fa capire che siamo arrivati secondi nel girone finisce 2 a 2 la prima gara ok quindi si deciderà tutto a in Francia a Parigi Palotelli 99 contro Mbappé chi la spunta è 5 a 2 brutalmente umiliato passiamo però il turno in Coppa Italia siamo in finale dove aver battuto 5 a 3 l'Atalanta sono molto preoccupato per la barretta perché quasi sul rosso la finale di Coppa Italia sarà contro l'Inter vinciamo 2 a 1 quindi ci portiamo a casa un titolo attenzione ragazzi alla barretta perché rischiamo e rischiamo tantissimo siamo arrivati proprio in questo istante al termine della stagione con il primo posto 78-78 incredibile eravamo tipo sesti barra settivi e abbiamo vinto il campionato abbiamo vinto il campionato Coppa Italia nonostante questo la barretta è rossa vergognatevi porca misera vergognatevi anche perché non abbiamo nessun obiettivo da fare cioè essendo arrivati a Milan durante la stagione non abbiamo l'obiettivo dei giovani l'obiettivo del brand non abbiamo niente cioè gli unici obiettivi che abbiamo sono quelli relativi alle competizioni quindi al calcio giocato e noi siamo riusciti a vincere la Champions League aveva vinto la Coppa Italia vinci il campionato 46 di overall cioè fate veramente schifo vergognatevi porca miseria comunque andiamo subito a vedere le statistiche perché il nostro Super Valotelli ne fa 34 più i 4 dell'anno scorso sono 38 gol ragazzi 38 gol per Valotelli alla quarta stagione e occhio alla scarpa d'oro perché la vince Vlaovic non ci credo 27-26 Valotelli con 29 partite stava vincendo la scarpa d'oro pazzesco aggiornamento grafico perché ci mancano solo due obiettivi i 150 gol che sono più che fattibili perché ne mancano pochissimi e la Champions League quella è quella è complicata perché abbiamo un'ultima stagione un unico tentativo per vincerla con il Milan stiamo per avvicinare alla sfida contro il Bayer Leverkusen ok non ho visto niente quindi scopro tutto in diretta 2-2 signori la partita di andata attenzione alla barretta perché siamo stati brutalmente eliminati dal Torino in Coppa Italia agli ottavi e questo potrebbe essere un grandissimo problema comunque con il Bayer Leverkusen vinciamo 4-3 e quindi signori siamo ai quarti di Champions League primo scalino il primo ostacolo l'abbiamo superato adesso abbiamo l'Inter in un super derby ragazzi in un super derby 2-1 la partita di andata totale dopo il ritorno è 4-2 battiamo l'Inter siamo in semifinale di Champions League dove sfidiamo il Manchester City mamma mia il nostro Manchester City 2-0 secco mamma mia no ai rigori abbiamo vinto noi non ci credo non ci credo 8-7 rigori non ci voglio credere ragazzi non ci voglio credere non ci voglio credere e in finale c'è il Borussia è assurdo quello che è successo come cavolo abbiamo fatto a rimontare il Manchester City non si sa ragazzi non si sa poi 8-7 ai rigori mamma mia mamma mia la squadra è questa qui con Balotelli sempre fisso sui 99 doveva fare 15 gol li ha fatti 15 gol si direi che li ha fatti 44 gol di cui 37 in campionato nessuno come lui battuto il record di Immobile di Guain quasi un gol a partita 38 partite 37 gol in Champions League ha fatto un po' vomitare solo 5 gol in 12 partite però gli vogliamo bene lo stesso il recap generale delle altre competizioni lo facciamo dopo adesso signori ci manca un solo obiettivo un solo solo uno la Champions League a Wembley Borussia Dortmund Milan finisce 3 a 1 ai tempi supplementari Ciucuese con gol di Osipen al 105esimo minuto aveva segnato Oilund nel Borussia Dortmund e allora signori all'ultimo secondo riusciamo a completare anche l'ultimo obiettivo portandoci a casa la seconda Champions League guardiamo rapidamente anche le altre competizioni perché vinciamo il campionato con 90 punti la Supercoppa la vinciamo quindi sono due titoli la Coppa Italia abbiamo uscito di Coltorino l'ho detto anche nella simulata e abbiamo vinto anche quindi la Champions League quindi sono 3 titoli portati a casa più scarpa d'oro per Balotelli e più 44 gol concludiamo allora con la graffichina schermo perché tutti gli obiettivi sono stati completati forse siamo stati un po' troppo buoni con gli obiettivi perché alcuni erano effettivamente facili però a volte non mi rendo conto della difficoltà degli obiettivi perché ci sono alcuni giocatori che rendono alcuni giocatori che non rendono e io questo non lo posso sapere prima di iniziare effettivamente la carriera però sono contento perché in 5 anni abbiamo vinto 5 scudetti cioè qualcosa di incredibile su 5 anni per 3 volte la scarpa d'oro giocando in squadra con Haaland e con Ozyman 179 golle in 5 anni ho fatto il calcolo adesso una media di 36 gol a stagione 15 trofei in 5 stagioni 2 palloni d'oro vinti e con questo anche 3 quindi 3 palloni d'oro in 5 anni cioè qualcosa ragazzi di allucinante io comunque vi saluto e vi ringrazio per aver visto questo video dall'inizio fino alla fine mi raccomando scrivetemi qui sotto nei commenti il prossimo giocatore da utilizzare nel suo prime che nella vita reale non è riuscito diciamo a sfruttare tutto il talento che aveva io vi saluto e vi ringrazio qui da Valotelli è tutto bella ciao